Buon sabato da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini. Traffico sostanzialmente nella norma in questo momento su strade e autostrade della Toscana. C'è sempre uno scambio di carreggiata sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta e San Casciano Nord, la direzione è quella per Siena. Sulle statali la E45, segnalati rallentamenti per lavori tra lo svincolo con la statale 75 Centrale Umbra e San Sepolcro Sud. Lavori anche sulla statale 223 di Paganico, Traccampagnatico e Civitella Marittima. Ricordo che domani 1 maggio la tramvia di Firenze sarà in servizio tutto il giorno senza interruzioni, servizio che parte alle 5 del mattino e termina alla mezzanotte e mezza. È tutto per il momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Guidate con prudenza, buon viaggio a dopo. Grazie a tutti.